La coesione nazionale invocata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha funzionato, anche la Camera ha approvato la manovra economica del Governo in tempi rapidissimi e almeno questo dovrebbe rassicurare per la tenuta della nostra economia rispetto agli attacchi della speculazione almeno nei prossimi mesi. Ma la situazione politica non è affatto tranquillizzata e anche se i numeri della Camera hanno confermato che la maggioranza può contare su un ampio margine di vantaggio rispetto all'opposizione, 316 voti contro 284. Non è rassicurata la situazione politica perché in realtà le opposizioni che non hanno un progetto alternativo alla manovra economica di Tremonti e che non hanno un progetto di governo politico alternativo a quello del centro-destra sperano in un qualche incidente che alla ripresa di settembre possa far saltare il Governo e aprire la strada al famoso Governo tecnico che dovrebbe essere formato da una personalità estranea alla politica, il nome che più viene fatto è quello dell'economista Mario Monti, e poter realizzare questo Governo che dovrebbe fare una nuova legge elettorale e portare il Paese alle urne eliminando finalmente Silvio Berlusconi. Questa alternativa si regge soltanto su una speranza, che ci sia una operazione non si sa condotta da chi che porti a far saltare la maggioranza stessa. Qualcuno ipotizza che la spina nel fianco potrebbe essere rappresentata da qualche iniziativa della magistratura napoletana a proposito del caso milanese, il collaboratore stretto del ministro dell'economia Tremonti, una iniziativa che potrebbe colpire direttamente Tremonti. Il procuratore capo di Napoli, Lepore, ha smentito questa possibilità, ha smentito anche che Tremonti possa essere nuovamente interrogato come testimone, ma noi sappiamo che queste smentite valgono per il momento in cui vengono rilasciate e il mondo politico dell'opposizione spera che a settembre il procuratore capo di Napoli, Lepore, smentisca le sue affermazioni e possa dare un colpo di maglio contro il Governo aprendo una iniziativa giudiziaria contro Tremonti. Che cosa fare per quanto riguarda la maggioranza per salvarsi da questa ipotesi? L'unica ipotesi che gira con insistenza è quella di un grande rimpasto, un rimpasto di governo che elimini alla radice le cause e le possibilità di subire colpi di questo genere e che rilanci l'interazione di governo, ma un rimpasto che dovrebbe essere fatto prima di questi accidenti o incidenti che potrebbero essere provocati da qualche magistrato particolarmente solerte o particolarmente desideroso di far affondare il governo Berlusconi così come altri magistrati fecero affondare il governo Prodi. Grazie a tutti.